Buongiorno a tutti amici di Radio Pace, amici di Tele Pace, ci troviamo all'Istituto Seghetti di Verona per seguire una mattinata davvero particolare e unica, fianco a me il preside dell'Istituto Seghetti, grazie e subito a lui chiedo che cosa seguiremo tra poco, che cosa succede qui? Allora oggi parleremo di una figura di giornalista, il miglior giornalista che dicono sportivo che è Gianni Brera, Gianni Brera in occasione dell'uscita di questo libro Gianni Brera l'Arcimatto, ci siamo trovati con l'AGESC d'Istituto e abbiamo cominciato a contattare delle persone e ho detto perché non presentiamo questa figura ai giovani e gli studenti, perché non era solo un cronista di sport ma era anche uno scrittore, per cui sapeva anche dare cultura al mondo dello sport e siccome siamo una scuola che fa dello sport un punto di riferimento importante perché crediamo che lo sport sia coniugabile con lo studio, perché è un valore aggiunto alla formazione, abbiamo detto vediamo se riusciamo a organizzare questo evento e devo dire che con l'aiuto di tante persone abbiamo portato qua oggi il Vescovo di Parma insieme con il Vescovo di Verona. Due Vescovi sportivi. Due Vescovi per cui è già un evento nell'evento perché sono non solo Vescovi ma sono anche praticanti dello sport, per cui amano lo sport e lo praticano. Poi abbiamo dei giornalisti sportivi tra cui Rinaldi che è il direttore della Gazzetta di Parma che è anche il biografo di Gianni Brera e poi Castellani che è il direttore della pagina sportiva di Avvenire che era già venuto l'anno scorso perché questo evento è a un anno di distanza da un altro e abbiamo fatto l'anno scorso sempre in occasione dell'uscita di un libro su Gianni Mura perché anche lì un altro giornalista che ha fatto cultura e non solamente cronaca del mondo dello sport. La cosa che mi incuriosisce e forse incuriosisce anche loro che ci stanno seguendo è Gianni Brera, Mura, personaggi storici del Novecento che forse questi ragazzi non hanno conosciuto o hanno neanche sentito parlare eppure rimangono dei valori, rimangono dei modelli a cui riferirsi. Infatti noi allora intanto nelle classi abbiamo portato conoscenza chi sono questi personaggi che sono dei grandissimi scrittori vorrei dire proprio oltre che giornalisti però vogliamo raccontarli a quella bellezza, cioè riuscire a raccontare quello che loro sono riusciti a far passare come valore, che ne so l'attenzione all'ultimo nel mondo dello sport, l'attenzione a chi non ce la faceva, a criticare per esempio tutto il mondo dei soldi che purtroppo gira nel mondo dello sport, cioè far capire che ci sono dei giornalisti che non si limitano a far cronaca ma che cercano di far passare una cultura e far vedere anche i valori etici, i valori formativi che sono detti allo sport attraverso la narrazione di campioni, di persone che l'hanno vissuto sulla loro pelle e questi sono stati due grandi giornalisti. Dietro di noi alle nostre spalle i ragazzi, che ragazzi sono delle superiori, del liceo e poi? Sì questi sono tutti i ragazzi del nostro istituto delle superiori, per cui abbiamo il liceo, liceo scientifico sportivo, tutte le classi, poi noi abbiamo anche un liceo delle scienze umane con un potenziamento sportivo, liceo scienze umane, economico sociale e un istituto tecnico in relazione internazionale, però li abbiamo chiamati tutti qua perché crediamo che il valore dello sport sia un valore trasversale, tra l'altro noi abbiamo in tutte le classi studenti che fanno sport ad alto livello e noi cerchiamo come scuola di coniugare lo studio con lo sport, dando loro la possibilità di organizzarsi al meglio. Anche perché ricordiamo, me lo diceva prima un ospite che poi andrete ad ascoltare che è una vecchia gloria del calcio, fare sport vuol dire imparare a sacrificarsi, imparare ad organizzarsi e a questi ragazzi che pensano che il bene, il bello è tutto e subito, forse imparano qualcosa anche ad ascoltare loro. Infatti noi ogni anno invitiamo dei campioni dello sport a confrontarsi con loro e qua abbiamo Roberto Boninsegna che magari non lo conoscono perché sono un po' più giovani ma abbiamo avuto modo di andare a vedere come giocava e racconterà la sua esperienza. Poi penso che arriverà anche a raccontare la sua esperienza ma è già stato a parlare con i nostri ragazzi Damiano Tommasi, anche lui ci fa passare quel messaggio ai ragazzi di questo tipo, cioè che per ottenere qualcosa nella vita serve impegno, serve sacrificio. Allora la domanda è costa fatica? Sì, però le soddisfazioni poi sono tante. Allora mi fanno cenno di lasciarla libero Preside perché forse stanno arrivando e deve introdurre la giornata. Grazie a voi e intanto grazie anche della vostra diretta che fate qua con noi. Grazie, buona giornata. Allora vedo che stanno aspettando il Vescovo di Verona che dovrebbe essere qui a brevissimo. Poi ci sono gli ospiti alle mie spalle, ci sono i ragazzi. Provo a vedere se riesce a raccontarci qualcosa in anteprima colui che si occupa dello sport per avvenire e a lui chiedo una cosa. Che cosa vuol dire raccontare a questi ragazzi di Gianni Brera questa mattina? Vuol dire innanzitutto fare un bel salto nel passato quando il giornalismo, anche sportivo, era basato tutto sulla carta stampata. Oggi loro invece vivono nel mondo social, nel mondo digitale quindi Gianni Brera che è sempre andato allo stadio con la sua lettera 22 Olivetti è sicuramente quasi un dinosauro. Però io credo che ci siano tanti spunti d'attualità che vanno appunto dalla difesa della memoria storica, non solo scalcistica e sportiva e poi la grande capacità di essere un uomo di narrativa, di narrazione e quindi io credo che abbia comunque un suo posto anche in quella che è la letteratura italiana, non solo letteratura sportiva. Avvenire si occupa di sport, mettendo al centro non tanto lo sport in quanto sport ma l'uomo che fa sport e il valore che lo sport porta. Sì perché io penso che comunque dietro il campione c'è sempre un uomo, c'è sempre una famiglia, ci sono degli affetti, dei sentimenti. La geografia dei sentimenti secondo me è molto più importante di quello che fa un campione sul campo, dei titoli che vince e della bacheca di fine carriera. Quindi questo aspetto qua è diciamo precipuo e peculiare per quello che è anche un po' un'analisi, un'osservazione perché è un campione frutto del suo tempo e anche della società in cui vive. In questa mattinata voi racconterete qualche aneddoto sicuramente, farete scoprire ai ragazzi i valori del calcio. Che difficoltà c'è far capire a loro, perché sicuramente verrà fuori il termine sacrificio, a questi ragazzi che hanno il tutto e subito? Diciamo che questa è una parola chiave. La parola chiave sacrificio secondo me va insieme alla parola passione, che sono due cose che spesso loro non distinguono, probabilmente anche perché il mondo adulto non gli ha dato gli strumenti per comprenderli. Quindi noi oggi cercheremo di far capire come sacrificio e passione anche nella storia di Brera hanno avuto un peso fondamentale. Lui parte da un piccolo paesino, San Zenone Po, proprio ai margini del Pavese, arriva nella grande città, si struttura, diventa un'eminenza grigia, ma senza mai però perdere di vista quelli che erano le sue origini, le sue radici contadine. Quindi sacrificio e passione per arrivare in alto partendo dal basso. Grazie mille, grazie di questa sottolineatura. Tra poco ascolteremo la vostra chiacchierata questa mattina. Proseguo, intanto la regia ci fa vedere un po' i ragazzi che questa mattina assisteranno a questo incontro insieme, sono i ragazzi dell'Istituto Seghetti di Verona e intanto chiedo se fosse possibile avvicinarmi il Vescovo di Parma, che è uno dei due Vescovi insieme al nostro, che partecipa all'incontro di questa mattina. Perché la peculiarità è raccontare un giornalista sportivo come Gianni Brera, dal punto di vista degli sportivi che si occupano di sport, ma anche di uomini di chiesa che vivono lo sport, come può essere il Vescovo di Parma che sta arrivando qui vicino a me e che insieme al Vescovo di Verona poi chiacchiererà insieme ai ragazzi. Eccellenza, siamo in diretta su Telepace, una battuta a lei. Cosa vuol dire raccontare lo sport oggi a questi ragazzi? Vuol dire offrire uno spaccato bello di una realtà che loro vedono in ogni momento. Più che altro lo sport lo vedono, lo impattano nei social, nei media, lo fanno anche. Ma vale la pena fermare, riavvolgere il nastro e mostrare come dentro lo sport c'è un mondo. Soprattutto c'è il loro mondo. C'è la possibilità di crescere, c'è la possibilità di fare cose grandi, mentre si fanno cose belle. Allora lo sport è pieno e il crocevia di dinamiche di crescita. E pertanto è bello raccontare quello che stanno facendo, quasi una sorta di mistagogia, ma anche quello che è stato fatto. Ecco Brea, ecco Boninsegna, ecco una storia bella che li può affascinare. Allora, eccellenza, la lascio accomodarsi perché mi fanno sentirmi, hanno fatto capire che adesso inizia. Grazie mille. Allora, in attesa che inizi questa mattinata insieme, mi sembra di vedere che il preside ha preso parte, ha preso posto sul palco, dovrebbe iniziare questo incontro dedicato a Gianni Brera, dedicato a questo grande del Novecento che ha raccontato quindi la bellezza del calcio e anche la bellezza della lingua italiana. Lo ricordiamo, Gianni Brera è quello che ha creato un po' il linguaggio calcistico, anche con delle terminologie particolari. Una mattinata, dicevo, che Telepace segue in diretta per il valore che lo sport porta in sé, per i valori che lo sport può raccontare. Gli ospiti si sono seduti sul palco, ci sono giornalisti, ci sono il Vescovo di Parma, stiamo aspettando il Vescovo di Verona che prende parte all'incontro, il Vice Preside della scuola e poi il Preside stesso. La particolarità di questa mattinata è quella di raccontare un modello di una storia passata a dei ragazzi moderni, abituati allo smartphone, abituati alla velocità, abituati a dei tempi che non sono i tempi di un po' di tempo fa. Vediamo se inizia l'incontro, mi pare che ci dovremo essere e allora la parola alla preside. Ragazzi siamo qua oggi, tanto grazie a vostra pazienza perché abbiamo un po' ritardato, adesso recuperiamo. Ci siamo? Bene, allora oggi siamo qua e sono contento che siamo qua a un anno di distanza da un altro evento che era quello su Gianni Mura l'anno scorso, parlavamo di Gianni Mura, un grande giornalista sportivo, quest'anno siamo qua sempre in occasione dell'uscita di un libro che è per Gianni Brera l'Arcimatto che tutti voi avete già visto anche all'interno delle vostre classi per prepararvi un po' a questo evento. Oggi parleremo di Gianni Brera, un grandissimo giornalista, ritenuto il miglior giornalista sportivo ho sentito dire, probabilmente è proprio così, detta anche dai professionisti della stampa. Ho avuto modo anch'io di entrare dentro questa figura in questi giorni, in questi mesi. È stato un grande giornalista perché ha inventato, ha inventato i linguaggi, ha inventato neologismi, ha inventato immagini, per cui era un creativo nel suo modo di fare giornalista e poi è diventato un narratore di storie e quasi uno che racconta lo sport, un romanziere dello sport, per cui non un semplice cronista, è per quello che siamo qua a parlarne, ma perché ha saputo alzare il livello anche di scrittura dello sport. Questo è molto bello, però mi ho fatto anche un'altra idea, poi qua ci sono esperti di Gianni Brera, che era un giornalista libero, una persona libera, cioè uno che diceva quello che pensava e come tutte le persone libere ha sicuramente, come dire, ti schieri con le persone libere, o lo ami e condividi oppure entri in polemica, ti rompe le scatole. E lui probabilmente a volte ha anche rotto lo scatole, perché? Perché ha voluto dare, e a questo ragazzi è anche già un messaggio che dobbiamo imparare a portarci via, cioè essere critici, saper guardare in questo caso il mondo dello sport, ma guardato anche da punti di vista diversi, dando uno sguardo più originale. Diremmo noi oggi, forse con linguaggio se non sbaglio, ma potremmo dire sarebbe un giornalista non politicamente corretto, quello che pensava lo diceva, pur creando però dentro quella polemica non era il gusto solo di rompere gli schemi, ma portava una cultura diversa nel modo di guardare lo sport. Per cui sono contento proprio che siamo qua a parlare di questo nella nostra scuola, l'Istituto Seghetti, che è una scuola che fa dello sport, come dire, dà allo sport un'attenzione particolare, qua abbiamo molti studenti che fanno sport, qualcuno lo fa anche a livelli molto alti, perché il nostro obiettivo è di mettere insieme il mondo dello sport e lo studio, cioè cultura sportiva e cultura dei libri, la cultura scolastica possono essere coniugate insieme, noi ne abbiamo la prova in tanti anni di esperienza scolastica, i ragazzi sanno rispondere molto bene, perché questo credo che sia il nostro prenderci cura delle persone, non solamente nell'accompagnarli alla loro cultura scolastica, formativa, di competenze, ma anche nelle loro passioni, nei loro desideri. Allora sono contento che siamo qua a parlare di questo. Tra l'altro lo sport è entrato anche come termine nella Costituzione italiana, l'articolo 33 riconosce appunto allo sport questo valore formativo, educativo, sociale, per cui la costruzione del benessere della persona, per cui siamo sulla strada giusta insomma credo. Oggi entreremo dentro questo personaggio Gianni Brera con delle persone eccezionali che io sono già onorato solo a vederle qua e averle qua. Ragazzi guardate che è un evento nell'evento avere qua queste persone. Oggi avremo con noi, li presento, il Vescovo di Parma, un signor Solmi, lo ringraziamo. Siamo in attesa e arriverà anche il Vescovo di Verona, Monsignor Pompili, ma sarà qua fra poco, che sono Vescovi ma sono anche sportivi. Poi accanto a loro ci sono due grandi firme del giornalismo sportivo, uso questi termini. Uno è il dottor Rinaldi, direttore della gazzetta di Parma, nonché biografo proprio di Gianni Brera, per cui abbiamo il miglior conoscitore di Gianni Brera e ci racconterai qualche aneddoto perché è eccezionale il modo come le racconta. E poi abbiamo Castellani, Massimo Castellani, grande firma del giornalismo, dell'avvenire, della pagina sportiva. Insieme a loro abbiamo un campione dello sport, del calcio, che è Roberto Boninsegna. Non so se voi magari siete giovani andate su internet a vedere cosa faceva Roberto Boninsegna. Ci ha fatto sognare, ci ha fatto sognare e diventa anche una testimonianza. Poi dovrebbe arrivare anche Damiano Tommasi come calciatore, ex calciatore, perché la loro esperienza, ragazzi voi dal Seghetti siete abbastanza abituati, l'esperienza dei campioni ci serve per crescere meglio, per vedere che per ottenere le cose nella vita bisogna anche sacrificarsi e impegnarsi. E lo ringrazio che è qua, che è qua presente e ci racconterà la sua esperienza. Il coordinatore di tutto questo, anzi diciamo, no adesso mi veniva una parola, meglio non dire questo aggettivo, comunque un grande giornalista sempre, che è Alberto Scemma, che ringrazio perché lo ritengo un amico del Seghetti ormai, perché ci stimola molto, grande firma del giornalismo sportivo ma anche docente di letteratura sportiva all'università. per cui raccontare lo sport, narrare lo sport non è semplicemente fare cronaca, ma è riflettere e dare dei forti messaggi, per cui lo ringrazio e lui sarà il moderatore, guiderà questo incontro. Allora ragazzi facciamo sì che questo momento insieme sia anche un momento di crescita perché abbiamo l'occasione veramente di avere dei messaggi veramente forti. io lascio per un attimo la parola al mio vicepreside, Tommasi lo vedo un po' reticente, lui allora Tommasi non solo il vicepreside ma anche il coordinatore responsabile del dipartimento di scienze motorie, che è quello che coordinano tutte queste attività che facciamo. A lui la parola. No allora io aggiungo due parole per riuscire a contestualizzare l'incontro di oggi. Gianni Brera è stato quello che per noi e quelli prima di me rappresenta adesso il giornalista che racconta lo sport. Lo sport è bello, è bello praticarlo, però molte persone lo vivono come spettatori. Quindi avere qualcuno che lo racconta in maniera carina, dinamica, magari con qualcosa di particolare o fa vedere immagini, dà la possibilità a tutti di vedere. Gianni Brera è stato uno dei pionieri in questo, nel senso che quando lui scriveva non c'erano tutti i social che ci sono adesso e quindi tutti leggevano la gazzetta, i giornali dove scriveva lui, però dava quel pizzico di curiosità, quel dinamismo, quella particolarità che rendeva le sue cronache di partite o altri avvenimenti sportivi come quasi delle storie. Voi vedete sui vari piattaforme, Netflix o d'altro, guardate i racconti, le storie di grandi atleti, però è bella anche la voce di chi lo racconta. Gianni Brera è stato per noi quella strada lì, quindi fa parte della cultura sportiva. Sapere chi racconta e avere persone, che raccontano e fanno vedere bene lo sport, aumenta e dà valore sicuramente allo sport che si pratica, oltre all'aspetto di viverlo come atleti. Io mi auguro che riusciate a raccogliere qualcosa di curioso, che vi faccia venire voglia di andare a scoprire figure, leggere, guardare, che alimenti la vostra curiosità. Io porto i saluti che purtroppo è qua che gira, ma la persona che dà sicuramente il là a tutte queste iniziative, che è il presidente dell'associazione ai genitori, che è Paolo Cordioli, fate un applauso, forse arriva. Ecco la persona che non si vede mai, si vede poco, ma è dietro le quinte e tira le fila di tutto e dà valore anche a un'associazione, quella dei genitori, per far vedere che si danno da fare, quindi quando all'iscrizione viene chiesto il contributo per associarsi è anche questo, dare la possibilità di fare iniziative per le scuole, anche di carattere culturale è importante. Io ho finito. Grazie e ringrazio anche alcuni ospiti che sono venuti, sono stati invitati, che sono qua davanti e li ringrazio di essere venuti qua, come anche i giornalisti per partecipare e Telepace che ci manda in diretta. Do la parola ad Alberto Scema che è la mente di tutto quello che c'è dietro qua. Grazie ad Alberto, a te la parola. Ragazzi, buone incontri. Grazie a voi per le vostre parole, è un cordialissimo saluto a tutti voi. C'è un motivo per cui questa giornata è stata dedicata al ricordo di Gianni Brera. Gianni Brera sta al giornalismo e alla letteratura sportiva come leopardista alla poesia, però a 30 anni dalla sua scomparsa il suo nome non soltanto ai ragazzi della vostra età ma anche dai 30 anni in giù è un illustre sconosciuto, quasi un carneade. Pensate che questo libro comincia con una frase, con una domanda, Gianni Brera chi? È una domanda apparentemente irriverente, dato il personaggio che vi ho spiegato che è. Però oggi Gianni Brera è effettivamente un carneade di fronte alla maggioranza dei lettori, cioè la prova, se vogliamo, di quanto sia ormai effimera la memoria delle persone, delle cose, però è la verifica al tempo stesso di quanto siano mutate nel giro di una manciata da anni, le coordinate del giornalismo scritto che ormai lo sapete anche voi, è stato soppiantato dalla tv, dai social, da internet e però, però la lezione di Brera a 30 anni dalla scomparsa è più che mai attuale se al di là di un linguaggio, del suo linguaggio irripetibile, lui ha stravolto la lingua italiana, l'ha addirittura mutata, i neologismi di cui parleremo, un linguaggio comunque privo di briglio, un linguaggio umorale, scapigliato, però noi dobbiamo prendere in esame l'aspetto etico ed è proprio questo il tema che l'Istituto Seghetti ha proposto oggi all'attenzione dei ragazzi affidandone l'analisi a relatori d'eccezione. È una scelta di elevato spessore educativo sicuramente, ma attenzione per voi, questa è una data da segnare con il circolino rosso, ma non sul calendario, poi chissà dove va a finire. Io lo dico, parlo dell'archivio della vostra memoria, guardate che questo è un evento speciale, è un evento di cui siete protagonisti oggi e non ricorderete per chissà quanto tempo ancora. Accanto a due Vescovi, il Vescovo Domenico e il Vescovo Enrico, a due campioni, Damiano Tommasi arriverà tra poco, due campioni come Tommasi, ma soprattutto Roberto Boninsegna, che appartiene alla storia del calcio. È stato un cannoniere straordinario, secondo Gianni Brera il più grande, con Gigi Riva, sono due eroi di un calcio che oggi non c'è più, il più grande tra gli attaccanti del calcio italiano. È stato inserito proprio di recente, prima del derby con il Milan, nella formazione storica dell'Inter come il più grande centravanti di tutti i tempi, scelto davanti a Ronaldo, per esempio ad Altobelli e ad altri grandi nomi, rilegando Peppino Meazza, che era una leggenda del calcio degli anni 30, due titoli mondiali, nel ruolo di Mezzale accanto a Suarez e a Mazzola. Questo per dire quanto questa presenza è importante. Poi ci sono due fuoriclasse della letteratura sportiva, non soltanto del giornalismo, parlo anche della letteratura, di un modo di scrivere che si sta perdendo purtroppo, Massimiliano Castellani e Claudio Rinaldi. Castellani è il responsabile delle pagine sportive di Avvenire, sono con la Gazzetta di Parma, io l'ho scritto, non lo dico soltanto a voce, l'ho scritto più volte queste cose, le più belle pagine di sport e noi abbiamo la fortuna di avere, l'audio è il direttore della Gazzetta dello Sport, della Gazzetta di Parma, ma ha avuto un occhio speciale sempre per le pagine sportive, perché quella è la sua origine. Noi vi racconteremo oggi di Gianni Brera in maniera diretta chiaramente, ma soprattutto vi racconteremo il perché questi personaggi, così atipici sotto tanti profili per lo sport, se non buon insegna che l'ha praticato direi da grandissimo protagonista, come si sono avvicinati allo sport. La passione per esempio del Vescovo Enrico Solmi, che non ha mai nascosto la sua passione per l'Inter, guardate come si cocco la buona insegna, che era uno dei suoi idoli, no? Pensate che nella fotografia che vi è stata presentata non si vede mentre guarda una mano e lui, noi la mano la vediamo dall'altra parte, ma lui guarda le dita di questa mano, sta guardando le dita di questa mano. La prima è nera, dipinta di nero, la seconda è dipinta di azzurro, nero, azzurro, nero. E non sono i colori dell'Atalanta, sono i colori dell'Inter e io vorrei che Monsignor Enrico ci raccontasse la sua passione per l'Inter e ci raccontasse anche Roberto Boninsegna visto da un Vescovo tifoso. Ruota libera. Grazie, sono contento di essere qui, ultimamente guardandomi la mano mi viene anche in mente il derby, ecco, ma detto questo io rispetto tutti, io non so, parlavamo di giornalismo, il mio primo articolo che ho letto di un giornale è stato sopra Bologna-Inter quando purtroppo perdemmo lo scudetto. Adesso è arrivato Domenico? Sì. E Monsignor Domenico, Vescovo di Verona, anche lui calciofilo, poi ve lo racconteremo. vi dicevo che la passione, le passioni nascono e non sai dove, non sai come. Quello che a me premeva da sempre era di fare delle cose, di farle alte e anche di farle, diciamo così, con passione. E anche nel calcio ci sono rimasto dentro, perché non so quando sono diventato tifoso dell'Inter, perché lo perdo nella memoria, lo perdo nella memoria e devo dire che tuttora devo moderarmi perché la passione c'è. Ed è bello unire la passione a qualcosa di forte. Le forte sono le emozioni, le emozioni con le quali ti approcci ad una cosa, anche allo sport, anche alla tua squadra. E nello stesso tempo le emozioni fanno parte di noi, fanno parte della mia vita e fanno parte di una vita che cresce, di una vita nella quale giochi le tue responsabilità. Allora la cosa bella è che tu metti insieme la tua vita, la tua crescita, con una passione anche sportiva, con una squadra per la quale tifi. Ed è bello questo, perché il tifo non rimane qualcosa di estraneo, non è tutto della tua vita, ma è un pezzo della vita che tu metti insieme ad altre. Io ad esempio non ho Sky, non ho Daza, non ho nulla. Io ascolto le partite e mi sono fatto il il proposito, quando l'Inter gioca di sera, di non cercare il risultato, ma di andarci a sbattere contro la mattina, quando uno mi manda un sms, oppure quando accendi il telegiornale, sempre come dicono i politici, chiedo scusa con il patè d'animo, capite che è un errore grosso. E allora devo dire che di notte a volte mi sogno, mi sogno una cosa bella che abbiamo vinto, mi sogno, è passione, è passione che ti arriva dentro e che la metti insieme alla tua vita. Boninsegna. Boninsegna è un mito, un mito dei miei anni di interista. Io mi ricordo Italia e Germania e mai avrei pensato che il lancio di facchetti a Boninsegna per Rivera che l'appoggia dentro, a un certo punto lo potevo sentire dalla viva voce. Poi ho avuto la grande fortuna che a Parma, quando sono diventato vescovo, fanno la festa dei veterani dello sport e dovendo trovare persone oneste, sincere, di altissimo livello, non possono che non cercare un interista, uno che ha giocato nell'Inter. Allora mi sono, chiedo scusa anche forse nel Cagliari, ma lui ha giocato anche nel Cagliari, allora me lo sono trovato davanti e la grande sorpresa di trovarmi una persona amica che con ulteriore sorpresa me lo sono trovato apparire nel cellulare una domenica, un Natale, una mattina. Si è ricordato di me, lui è nata e quindi una relazione mi ha consolato molto negli anni bui dell'Inter, ecco, perché di fare Inter vuol dire mettere il proprio cuore non solo nel nero azzurro ma nel rischio di rimanerci in mezzo perché è pasta realmente. Ed ho avuto il piacere veramente di incontrare una persona a 360 gradi, una persona che ha fatto sognare tanto ma che farebbe sognare anche per le sue doti umane per il suo essere. Grazie. Sono doti umane che Roberto, ci conosciamo da ragazzini, ha ereditato da una famiglia solida, solidissima, ma io credo che molto abbia contribuito anche la scuola di un calcio che all'epoca nostra veniva praticato soprattutto negli oratori. In questo caso c'è un oratorio quello di Sant'Egidio a Mantova che ha tenuto a battesimo la maggior parte dei giocatori mantovani d'élite e lì credo che sia doveroso da parte di Roberto raccontare come ha cominciato in questa realtà, questa realtà parrocchiale. Perché allora il calcio, prima ancora che la Lega Giovanile emergesse nel dopoguerra, il calcio veniva praticato dal CSI, le squadre del CSI erano le migliori in assoluto e le squadre parrocchiali avevano una funzione sportiva da un lato ma soprattutto una funzione educativa. Molta di questa educazione insieme con la famiglia ha contribuito a darle a Roberto questa esperienza con la squadra del Sant'Egidio. Roberto. Dunque la mia carriera nasce in Sant'Egidio che è una parrocchia di Mantova e ho giocato fino all'età di 12-13 anni in questa squadra. Purtroppo c'era anche d'Alberto Scema ma non me l'ho dovuto sopportare che era una... Capo canoniera eh? Capo canoniera eh? Non si sa perché. E finché una domenica mattina in un campetto della periferia di Mantova un signore mi si avvicina e mi fa ti piacerebbe andare a provare all'Inter? Io l'ho guardato e ho detto ma questo mi prende in giro no? Ho detto guardi io abito in via Valsesia 71 a Mantova e vengo a parlare con mio papà ecco. E glielo racconto appunto a mia madre e mio padre che c'è questo signore che deve venire. In effetti viene a casa mia e parla con mio padre e mi vuole portare a fare eh all'Inter a provare per vedere se il settore giornale era diretto da Peppino Meazza, grande attaccante, poi è difficile ricordarlo ma sui libri di storia calcistica c'è un grande centravanti. Ho fatto due prove e sono andato bene e a 14 anni ho cominciato a fare il pendolare Mantova a Milano a giovedì e alla domenica a giocare finché l'Inter crede in me e mi porta a Milano e faccio diversi anni nel settore giovanile. Però purtroppo a un certo momento l'Inter non crede più in me e faccio qualche anno fuori, faccio un anno a Potenza, un anno a Prato, un anno a Varese finché l'Inter mi lascia andare e mi vende al Cagliari, sempre Serie A. E lì arrivo in Serie A, in grande Cagliari che facciamo tre campionati bellissimi, nonni, sesti e secondi. A un certo punto alla fine del terzo anno arriviamo secondi dietro la Fiorentina, Scopigno che era il nostro allenatore mi chiama e mi fa guarda, purtroppo quest'anno siamo arrivati secondi perché eravamo in 15-16 e qui ci sono due giocatori che fanno cassetta, uno è Riva e non vuole andare via da Cagliari e l'altro sei tu e gli dissi guardi io mister vado via solo se mi rimandate all'Inter perché è sempre stata la squadra del mio cuore e mi accontentarono. Feci sette anni di Inter, vinsi uno scudetto, tre classifiche cannonieri e poi inaspettatamente l'Inter mi cede alla Juventus che non volevo andarci perché però allora c'era il vincolo, non c'erano i procuratori, tu eri merce di scambio decideva solo la società. Per fortuna invece ho dovuto accettare ma per fortuna questo trasferimento mi ha portato a vincere con la Juventus, due scudetti, l'Europa League, Bilbao e una Coppa Italia. E poi volevo finire la carriera a Mantua ma non ce l'ho fatta perché nessune profete in patria non mi hanno voluto e ho finito la carriera in Serie B qui a Verona. Questa è un po' la mia carriera stringendo. Ecco c'è una domanda d'obbligo Roberto perché a Cagliari e qui parliamo di Gianni Brera è nato Bonimba e allora vorrei che tu raccontassi come è nato, anzi comincio io a raccontarlo attenzione, Bonimba rispetto ai centravanti storici non è alto, io non so come facesse arrivare in acrobazia quelle famose rovesciate che avrete visto però Brera dall'alto, Gianni Brera dall'alto lo vedeva piccolo, lo vedeva un nano e siccome era molto agile gli è venuto in mente un nano del Circo Togni che si chiamava Bagonghi che era un nano saltatore, allora ha cominciato a scrivere Boninsegna trattino Bagonghi poi siccome era troppo lungo non andava a capo ha cominciato a scrivere Bonimba Gonghi e poi anche quello era troppo lungo e ha scritto finalmente Bonimba che è un nome da gole, è un nome esplosivo però quando ha scritto Bonimba Gonchi Roberto Boninsegna non era molto contento e all'uscita alla fine della partita ha visto Gianni Brera e lo faccio raccontare da lui. Se non la racconta sta male, poi non gli interessa nessuno, mi interessa solo lui. Allora venivano nell'androne a San Siro quando si finiva di giocare a intervistarti e una volta ha cominciato a scrivere Bonimba e gli chiesi ma da dove arriva sto nominiano? Fa Bonimba da Boninsegna e Bagonghi è un nano e io lo guardavo dall'alto in basso, no? Ho detto guarda questo qui mi dà del nano è 20 centimetri meno di meno e lunedì che lui scriveva sul giorno lo mise proprio sul giornale ed è inutile che Bonimba mi guardi dall'alto in basso, per me sarà sempre un nano gigante. Allora c'è un motivo breriano per cui abbiamo parlato di Cagliari, abbiamo parlato di Bonimba che ha giocato nel Cagliari con Gigi Riva ma voi non tutti voi sapete che il vescovo Domenico è un tifoso del Cagliari e che Paolo Cordioli prego di avvicinarsi perché ci sarà probabilmente una sorpresa e c'è un neologismo, uno dei tantissimi che Brera ha coniato per Gigi Riva chiamandolo addirittura rombo di tuono. Pensate una cosa, i due personaggi storici come attaccanti del calcio italiano, Boninsegna e Riva, tutti e due Brera è riuscito per tutti e due a coniare due epiteti esplosivi, pensate Bonimba viene in mente un tiro gol, rombo di tuono e io vorrei che il vescovo Domenico ci raccontasse questa sua passione per il Cagliari in particolare, oggi su Avvenire questo signore Massimiliano Castellani ha scritto apposta per fare un regalo quantomeno da venire al vescovo Domenico una pagina su Scopigno e il Cagliari che a giudizio di Roberto è stato il più grande allenatore che ha avuto allora vorrei che questa passione per il Cagliari e per rombo di tuono ce la raccontasse Monsignor Domenico allora io intanto ho portato una reliquia di Gigi Riva perché sono riuscito di recente ad avere la maglietta quella originale del Cagliari con tanto di firma di Gigi Riva, vedete queste magliette questa è degli anni 70 è una vera maglietta perché voi sapete che oggi quando giocano le cambiano almeno un paio di volte la maglietta sono molto più di tipo sintetico, questa invece è una vera maglietta e la caratteristica di questa maglietta sono questi laccetti, questi ce l'aveva penso anche qualche altra squadra ma il Cagliari era caratterizzato proprio da questa maglietta e non c'è lo scudetto del 1970 ma comunque è proprio questo io da bambino ero talmente appassionato del Cagliari che quando passavano i granatieri di Sardegna io pensavo che fossero loro quelli che potevano darmi i quattro mori ma tutte le volte che andavo a chiedere non me la davano la maglietta, invece questo sogno si è realizzato quest'estate tramite un sardo che vive e opera qui a Verona che ha creato il contatto con Gigi Riva che è uno straordinario campione ma anche una persona molto riservata, almeno penso che Boninsegna possa confermarlo perché sono del Cagliari non saprei dirlo perché come forse per tutti l'inizio è sempre diciamo così avvolto nel mistero anche perché mio padre era un irriducibile giuventino, gli piaceva vincere facile a lui e io invece sono diventato del Cagliari e devo dire che sono sempre rimasto del Cagliari adesso ci metto a fianco pure il Verona naturalmente ma per la ragione che poi ho visto essere questa cioè che essere del Cagliari non ti esporre mai a polemiche o a particolari contrapposizioni perché tu sei visto piuttosto come uno sfigato perché tifi una squadra che non avrebbe un grande risultato invece negli anni 70 quando avevo 7 anni il Cagliari effettivamente ci ha un po' stregato e ricordo perfettamente l'anno dello scudetto in cui se non vado errato l'alternativa era la Juventus proprio il primo anno la Fiorentina ma ci fu una partita tra Juventus e Cagliari che vinse la Juventus che sembrava forse era qualche anno dopo però quella lì ecco sono rimasto sempre legato al Cagliari perché il Cagliari come scriveva stamattina il nostro amico di Avvenire al quale faccio un elogio perché Avvenire è un bellissimo giornale perché è un giornale diciamo aperto al mondo perché ha una sorta di profilo internazionale ma è anche diciamo così ricco di tanti spunti ma dal punto di vista della cronaca sportiva io ricordo quando facevo parte del CDA di Avvenire dicevamo sempre che è poco attrattivo ma anche perché il lunedì non esce Avvenire invece quella pagina di oggi è stata una pagina straordinaria complimenti e dicevo che il Cagliari è rimasto sempre nel mio cuore forse perché da bambino aveva quella luce che veniva dallo scudetto che aveva conquistato ma soprattutto perché mi sembrava il Cagliari l'espressione di una regione la Sardegna che a quel tempo era molto marginalizzata lui faceva riferimento ai Sardi che venivano quando giocavano soprattutto il Cagliari etichettati come pecorai e banditi perché all'epoca c'erano i sequestri di persona ricorderete quando fu sequestrato ma un po' più avanti Fabrizio De Andrè e la moglie furono tenuti per mesi segregati il Cagliari ha rappresentato per quella regione una sorta di riscatto perché la Sardegna degli anni 70 non è quella attuale dove un certo investimento turistico ha trasformato i connotati di questa area piuttosto depressa e quindi il Cagliari è sempre rimasto per me come l'espressione di un riscatto rispetto alle più blasonate squadre nazionali però per me il Cagliari non è stato solo l'unico amore del calcio perché il vero amore per il calcio è giocare a calcio a me è sempre piaciuto giocare a calcio e dico che questa è stata la ragione della passione poi del calcio giocato dagli altri la vera mia passione era quella di poter giocare e come nelle parrocchie e anche nei seminari si giocava moltissimo perché il calcio è sempre stato visto come un'alternativa a una vita piuttosto sedentaria e credo che ieri come oggi possa essere un'esperienza che torna molto interessante soprattutto voi che adesso siete una generazione che rischiate in virtù di questi nuovi linguaggi di essere un po' seduti e invece penso che possa essere molto più coinvolgente l'esperienza sportiva quindi il resto del Cagliari e adesso anche del Verona visto che da questo punto di vista sono squadre che si avvicinano perché cominciamo dalla prima partita di campionata a lottare per rimanere in Serie A questo è quanto ecco va detto per onore di cronaca che in quel Cagliari in quel Cagliari e in quella nazionale vice campione del mondo in Messico con Roberto Boninsegna c'era anche un autorevolissimo campione veronese vediamo se qualcuno se lo ricorda il nome è Pierluigi Cera un altro personaggio che da un punto di vista etico andava ricordato tuttora come personaggio esemplare devo dire e la domanda adesso è per Claudio Rinaldi Claudio Rinaldi direttore della Gazzetta di Parma ma soprattutto grande sportivo e poi biografo ufficiale di Gianni Brera ha scritto un libro con il figlio Paolo Joan Fucarlo un libro che racconta Brera in tutte le sue angolazioni letterarie, sportive, umane vorrei che tu in sintesi ci raccontassi che cosa Brera può raccontare può testimoniare ancora ai ragazzi di oggi qual è la lezione che Brera a distanza di 30 anni questo carneade di fronte alla maggior parte degli sportivi di oggi può ancora parlare ai ragazzi dunque innanzitutto quando parliamo di calcio senza saperlo usiamo tantissime parole che prima di Brera non esistevano e dopo sono entrate nel gergo sportivo lui era un pavese della bassa era nato nel 1919 da una famiglia molto povera però era l'unico dei figli riuscito ad andare all'università e aveva da sempre in modo molto precoce avuto la vocazione dello scrivere diceva di aver sognato di farlo scrittore quando ancora non sapeva scrivere in italiano perché in famiglia si parlava il dialetto questo per dire che la sentiva come quasi una vocazione e ha cominciato a scrivere da giovanissimo cioè nei tempi del liceo è diventata la terza firma di guerra sportiva ha scritto un romanzo per bambini pubblicato a puntate sul Corriere dei Piccoli ha tradotto Molière quando aveva una ventina d'anni per dire che era uno che con la scrittura ha preso confidenza da subito e questo gli è tornato utile perché finita la guerra si è trovato alla gazzetta dello sport perché l'allora direttore lo aveva invitato a entrare per fare giornalista e si è trovato davanti un mondo del giornalismo sportivo che definiva così c'era un gruppo di giornalisti sportivi che lui chiamava gli amanuensi che si intendevano di sport per averlo giocato ma non sapevano mettere in fila quattro parole poi c'erano invece quelli che avevano fatto studi classici scrivevano un buon italiano ma non sapevano nemmeno che la palla fosse di cuoio lui è stato il primo a coniugare una grande competenza tecnica per aver giocato a pallone da ragazzo e ha un linguaggio che era già molto particolare che con gli anni si è affinato questa premessa serve a dire che lui ha sempre detto che usava come un bravo artigiano si è costruito gli attrezzi di mestiere che fossero più utili al suo mestiere appunto per cui ha cominciato a ringiovanire e a stravolgere per molti versi il modo di raccontare lo sport intanto per esempio oggi tutti voi siete perfettamente abituati che un giornalista dia un'opinione tecnico-tattica dell'evento che racconta non era così prima lui ha imposto al lettore la propria interpretazione tecnica all'inizio sono state anche battaglie perché nessuno lo faceva e ha iniziato a inventare parole ne cito qualcuna ma sulle parole sul calcio-linguaggio come è stato definito di Gianni Brera sono state scritte tesi di laurea anche molto importanti e anche finite in libri goleador, centrocampista, libero, melino, melina pretattica, incornare, uccellare queste sono alcune delle parole che noi oggi usiamo abitualmente chi parla racconta lo sport e che non esistevano prima che Brera le inventasse quella di cui era più orgoglioso era il cogno di cui era più orgoglioso per una parola che addirittura nasce da un errore grammaticale che è intramontabile tutti noi lo usiamo, credo è finita nei vocabolari ma in teoria intramontabile essendo tramontare un verbo intransitivo non si potrebbe dire, non si può dire indormibile questo per dire che lui ha cominciato a usarlo perché gli faceva comodo usarlo per un titolino su una colonna ed è finita nei vocabolari libero poi, adesso libero praticamente con i moduli di oggi non esiste più ma ai tempi di Boninva esisteva e come libero era orgoglioso del fatto che Beckenbauer, uno dei più grandi libri della storia del calcio a lui sia stato dedicato un film in Germania e sia stato titolato libero appunto in italiano con la sua parola quindi per noi giovani che sognavamo di fare giornalista leggere Brera era davvero una cosa unica io personalmente se faccio giornalista è perché quando avevo 12 o 13 anni mi sono imbattuto in Brera era un po' per caso per il consiglio di uno zio consiglio del quale gli sarò per sempre grato io alla vostra età mi svegliavo mezz'ora prima per passare in ridicola prima di prendere l'autos per andare a scuola perché volevo leggere cosa diceva Brera e potrei poi benissimo testimoniarlo voi non avete idea del peso che aveva Brera di quanto fosse temuto dai giocatori di quanto il suo voto in pagella fosse preso in considerazione e anche di quanto i commissari tecnici fossero addirittura influenzati dai suoi articoli nelle proprie scelte quando andava all'estero con la nazionale allora i giocatori viaggiavano con la nazionale mi ha raccontato una volta Gianni Mura che spesso all'arrivo prima che i giocatori o l'allenatore i giornalisti dei posti intervistavano Brera questo vi dà un'idea dell'autorevolezza e della popolarità che aveva quando si spostava da un giornale all'altro si trascinava dietro 40.000 lettori che cambiavano giornali per seguire i suoi articoli questa è una cosa che al giorno d'oggi sembra impossibile c'è da dire che quando lui scriveva almeno i primi anni perché è morto nel 92 però nel 49 lui segue il Tour de France che viene vinto trionfalmente da Coppi e la gazzetta dello sport per la quale scriveva e ne scrisse così bene di questo Tour che alla fine del Tour fu nominato direttore e aveva 30 anni stampava 700-800.000 coppie al giorno che sono cifre impensabili con le macchine di allora di stampa dovevano stampare normalmente il giornale viene stampato di notte e verso le 2 o le 3 viene distribuito in tutto le edicole lo stampavano tutto il giorno e man mano che venivano pronte 50 coppie venivano portate le edicole questo per dire che fame di articoli scritti da Gianni Brera c'era è ovvio non c'era la tv e quindi lo sportivo aspettava il giorno dopo per vedere come Brera aveva raccontato la partita quello che ci lascia è sicuramente quello che i libri qualcuno si può trovare ne consiglio assolutamente alla lettura perché ci sono edizioni che si trovano ancora da Coppi e il diavolo che è un romanzo straordinario con il quale racconta da passù la vita di Coppi a tante antologie di articoli sul calcio su altri sport o sul ciclismo quello che resta è però anche il suo modo di intendere giornalismo di vivere la vita sempre con la schiena dritta si parlava prima delle polemiche lui ha avuto mille polemiche proprio perché non ha mai esitato a prendere posizione ha condotto delle vere e proprie battaglie tecnico-tattiche lui era per il calcio all'italiana oggi con un orribile neologismo risultatistico allora si diceva difensivisti cioè calcio all'italiana safety first primo non prendere quindi difesa e contropiede lui ha teorizzato questo modulo Nero Rocco in panchina lo ha messo in pratica e tanti altri con lui e per tutta la carriera per tutta la vita lo ha difeso a spada tratta ha avuto polemiche infinite anche perfino violente si addirittura ha pinchiato in una tribuna d'onore con un giornalista che invece la vedeva diametralmente in modo opposto lui lo offendeva un po' perché diceva questo giornalista si chiamava Gino Palubo è stato a sua volta un grande giornalista diretto alla Gazzetta dello Sport diceva lui non capisce nulla di calcio ma legge quello che scrivo io e l'indomani scrive il contrario la polemica era su questi toni un giorno si presero anche a schiaffi e pugni ma ebbe polemiche anche importanti con i famosissimi intellettuali da Pierpaolo Pasolini a Umberto Eco questo per il quanto era seguito anche non solo dal tifoso di sport ma dall'intellettuale che magari lo leggeva di nascosto perché faceva un po' snob occuparsi di calcio però tutti lo leggevano quindi quello che lascia penso sia il suo testamento visto che non ha lasciato eredi perché non ci sarà mai più un giornalista del suo livello però è il coraggio di affrontare le battaglie sempre a testa alta di affrontare anche le polemiche e soprattutto la generosità verso il lettore e lo scrivere sempre ad alto livello e questa generosità che ha avuto nella vita ma anche e soprattutto nel lavoro quindi un'onestà intellettuale che lo ha guidato per tutta la sua carriera che è stata straordinaria grazie a Claudio che è un breriano doc ma io adesso voglio chiamare in causa Massimiliano Castellani per analizzare quel discorso che vi ho fatto all'inizio cioè della crisi probabilmente irreversibile della stampa scritta ormai soppiantata dai social da internet dalla tv se io chiedo chiedessi e non lo faccio chiedessi a voi di alzare una mano per vedere quanti di voi leggono almeno un giornale un quotidiano dico alla settimana non dico al giorno alla settimana non lo voglio fare perché ho dei riscontri negativi a livello di università insegnando letteratura sportiva ogni anno chiedo quantomeno qual è il loro l'approvvigionamento delle notizie sportive si alzano due o tre mani per dirmi leggo sfoglio la gazzetta dello sport non citano altri giornali non citano Repubblica il Corriere della Sera questo ormai è una una deriva devo dire irreversibile c'è da dire ho chiesto vi faccio un esempio ho chiesto ma leggete la gazzetta dello sport tre ragazzi su 50 o 60 ma vi ricordate almeno un nome di una di un autore di un giornalista e uno mi ha fatto il nome di Luigi Garlando e io mi sono rallegrato perché è una buona firma però non lo conosceva per quello che scrive sulla gazzetta dello sport ma per i libri che ha letto da bambino la serie delle cipolline del battello a vapore allora ho chiesto ma insomma fatti almeno il nome del giornalista che viene immediatamente in mente subito Gene Gnocchi Gene Gnocchi per quella roba della prima pagina ecco questo per dire allora attenzione Massimiliano Castellani è diverso da tutti gli altri responsabili delle pagine sportive perché ha capito a mio giudizio non so se sia un complimento o meno ha capito che le notizie spicciole quelle che vengono date dai social a scrivere il giorno dopo sul giornale non hanno senso lui ha cambiato le pagine di avvenire dando spazio alle storie lui è un bracconiere di storie un cacciatore di storie recupera dei personaggi la cui memoria si è persa oggi per esempio lo ha fatto per fare un regalo chiaramente a Monsignor Domenico però c'è una pagina su Scopigno Manlio Scopigno l'allenatore filosofo che nessuno di voi chiaramente conosce perché la memoria non è stata tramandata però è un personaggio che invita alla lettura allora Massimiliano io voglio chiederti in che modo hai stravolto queste regole del giornalismo di oggi e in che modo ti sei portato all'avanguardia allora detta così sembro un rivoluzionario in realtà sono una persona abbastanza semplice e comune in realtà tutto questo nasce anche grazie al mio giornale avvenire mi fa piacere i complimenti del Vescovo Pompili perché ha capito bene qual è lo spirito ma lo spirito è stato anche quello di accorpare spettacoli e cultura allo sport perché lo sport secondo me fa parte della cultura di questo paese soprattutto il calcio basta guardarci intorno prima ho visto un ragazzo con la maglia della Juventus sono stato spesso in viaggi in Africa in paesi strani molto esotici ho sempre trovato bambini con le maglie dell'Inter della Juventus del Milan di Barcellona Real Madrid quindi il calcio lo sa benissimo Romano Mattè qui davanti a me che da bracconiere di storia è un personaggio di quelli prima o poi gli dedicheremo una giornata il calcio è il linguaggio più universale che esista grazie al calcio anche se non si conoscono le lingue si riesce a dialogare e a creare una comunicazione quindi per quanto mi riguarda ho capito che l'unica cosa possibile per un giornale generalista come il nostro quotidiano non potevamo replicare quello che fa la gazzetta dello sport che seziona come fanno anche le le ptv ogni singola azione ogni singola prima vedevo i gol di Boninsegna un gol normale di Boninsegna oggi verrebbe fatto rivedere commentato 65 volte 700 highlights che poi purtroppo è diventata anche un po' lo spazio temporale di tutti noi che seguiamo il calcio io vedo i miei ragazzi a casa che non riescono più a seguire una partita di 90 minuti si guardano gli highlights quindi diciamo che questa piccola rivoluzione come la chiami tu parte da un'esigenza fondamentale raccontare prima l'uomo e poi il campione far capire che dietro un campione c'è un uomo che arriva dalla squadra di Sant'Egidio dove tra l'altro tu hai scritto una cosa per noi non era neanche il più forte pensate uno come Boniba non era neanche il più forte a 15 anni ma questo però a proposito di storie particolari lui sa benissimo che nel Bologna nel Bologna dove tu eri il vice c'era Mancini Roberto ex Cittidre Nazionale ora Transfugo in Arabia Saudita e c'era un ragazzo che si chiamava Marco Macina che a detta di tutti era il più forte in assoluto di quella generazione allora mi piace spesso raccontare anche quelli che non ce l'hanno fatta un po' seguendo anche il solco di Brera che era innamorato sì di Boninsegna di Gigi Riva che a tutt'oggi vi ricordo è il più grande cannoniere della storia della nazionale non è stato ancora superato il suo record di 35 gol in azzurro e resiste dal 1973 e al secondo posto ci sono due personaggi uno è Peppino Meazza a cui intitolato lo stadio di San Siro e il terzo è Piola che oggi sarebbero due ultracentenari quarto e quinto troviamo poi Roberto Baggio e Del Piero che già per voi sono dei nomi da preistoria stanno diventando quasi dei nomi di preistoria quindi questo per far capire come è importante secondo me fare questo tipo di giornalismo perché dobbiamo conservare la memoria la memoria storica parte anche da episodi e da storie semplici come quelle dello sport e come quelle del calcio perché dietro c'è un mondo attraverso Boninsegna si può raccontare una città come Mantua si può raccontare lo sport e il calcio di oratorio del Sant'Egidio mi ricordo che per i 70 anni facevamo un'intervista lui andò a festeggiarli nella cartiera dove aveva lavorato suo padre quindi il calciatore dietro il calciatore milionario anche quelli dei vostri idoli di adesso ci sono delle storie spesso di povertà di sofferenza storie di famiglie che non arrivavano a fine mese che grazie al calcio hanno trovato un riscatto come quel Cagliari di cui parlavamo prima che ha subito il primo episodio vero e proprio di razzismo nei confronti di una squadra oggi si parla tanto di razzismo soprattutto razzismo io lo chiamo da ultimo stadio quello che ancora esistono tantissimi imbecilli che alla domenica prendono di mira il ragazzo di colore e lo bersagliano per tutta la partita questi ragazzi qui siccome rappresentavano la Sardegna che era un posto dove nessuno voleva andare neanche i poliziotti e i carabinieri venivano mandati per punizione negli anni 60 il presidente della Juventus Boniperdi che Boninsegna ha avuto quando un giocatore non andava bene lo minacciava dicendo ti mando al sorso che era una squadretta di un paesino della Sardegna che nessuno conosceva come per dire ti mando laggiù che non ti troverà più nessuno quindi il calcio ha la possibilità e questo ce l'ha insegnato Gianni Prera ce l'ha insegnato poi il suo unico allievo Gianni Mura che l'anno scorso abbiamo ricordato grazie al presidente Pavoni e voi ragazzi del seghetti che si può fare una narrazione si può arrivare addirittura a quello che chiamava Pasolini un calcio di poesia cioè attraverso lo stile attraverso la storia umana si arriva appunto a una definizione completa del campione che è qualcosa di più e che può essere spesso anche un punto di riferimento un modello anche per voi quindi oggi la difficoltà è trovare un campione a tutto tondo come è stata la generazione di Boninsegna e di Riva perché come dicono i giovani è diverso dai tuoi tempi tutto è cambiato però io ritengo che forse un selfie in meno un po' di social in meno un po' più di sana lettura che parte dal quotidiano riportiamolo nelle classi se è possibile riportiamo la carta perché la carta secondo me non morirà mai poi alla fine secondo me può dare un qualore aggiunto e rientra nel bagaglio nella formazione nella cultura di questi ragazzi perché io sono convinto che prima o poi questo mezzo freddo virtuale del social prima o poi imploderà noi stiamo parlando ancora oggi qui siamo riuniti con gente che scriveva prendeva appunti su un taccuino e scriveva allo stadio con una macchina da scrivere Gianni Mura l'ha fatto fino agli ultimi anni andando allo stadio beccandosi anche un po' dell'anticonformista però ecco forse un'altra cosa importante cerchiamo di essere ognuno di noi qualcosa di speciale ognuno di noi è un essere diverso dall'altro e ha un suo talento quindi omologarci tutti quanti dentro una scatoletta credo che non sia più giusto lo so che lo faccio questo discorso anche ai miei figli a casa stamattina vi faccio un esempio banale ho incontrato Pozzecco il ct alla stazione a Milano il ct del basket il coach ho parlato un po' i miei figli sono appassionati di basket e gli ho detto che l'avevo incontrato mi hanno detto non è possibile non c'è il selfie e quindi io questa cosa qua ma talmente mi succede spessissimo che gli racconto delle cose che non riprendo che quindi non sono esistite invece queste sono tutte quante storie qua su questo palco che stiamo vivendo in carne ed ossa io credo che ci sia più bisogno di momenti di confronto come questo c'è bisogno di fare la telefonata giusta il cellulare va usato per chiamare la persona giusta l'amico la persona a cui si vuole bene però ritagliamoci anche uno spazio per la lettura soprattutto per la difesa della memoria per la difesa della storia e di quello che stiamo parlando qua stamattina di un calcio di poesia che è assolutamente romantico e che non deve morire se noi ci impegniamo a difendere grazie voi potete immaginare che all'interno dell'ambiente giornalistico loro lo sanno benissimo ci sono anche le cosiddette talpe che sono quelle che raccontano le storie meno note le storie segrete dei personaggi che magari noi in questo momento stiamo intervistando una talpa nostra amica abita a Fiuggi si chiama Raffaele e ci ha raccontato che il vescovo Domenico aveva e ha due piedi addestratissime per il calcio due piedi buoni un numero 10 e che giocava a calcio tranquillamente secondo lui sarebbe arrivato anche a giocare in serie B ecco non allarghiamoci troppo allora vorrei sapere dal vescovo Domenico se racconta il vero Raffaele che è suo cugino e quindi lo conosce lo conosce bene un microfono per cortesia eccolo e ha segnato due gol non esageriamo no vabbè ma questi sono diciamo così piccoli allenamenti no dicevo prima che mi è sempre piaciuto giocare e naturalmente prima c'era anche più fiato e più allenamento quello di poter giocare in squadre più grandi non l'ho mai immaginato anche perché non c'è stata la possibilità ma credo che la cosa più bella sia poter sperimentarsi mi venia da chiedere invece chi di voi gioca calcio calcetto calciotto calcino alzi la mano beh diciamo c'è qualche ragazza che gioca calcio calcetto calciotto calcino ecco beh ecco diciamo che non siete tantissimi che giocate però fate altri sport immagino qual è lo sport preferito da voi calcio qual è lo sport preferito no qual è lo sport che praticate di più se non è il calcio possiamo domandare vado io a chiedere vediamo un po' il calcio 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 ma non l'avete alzata le mani cioè lo vedete il calcio no giocate a calcio calcio pallavolo tennis calcio 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 pallavolo silenzio niente ginastica ritmica pallavolo tennis basket equitazione equitazione pallavolo nuoto giuseppe calcio 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 beh insomma calcio anche se altri sport c'è qualcuno che pratica qualche sport particolare atletica 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 lui fa ballo io calcio ballo qualche altro sport diverso cavallo cavallo danza danza atletica atletica che fai di speciale no tu che fai scacchi scacchi ok vediamo qua che fanno c'è qualche lo ingaggiamo lo ingaggiamo ok bene allora no qualcuno lo pratica ancora il calcio a che cosa a freccetta che significa a freccetta proprio così ok allora Monsignor Domenico ha un futuro assicurato come bordo campista in tv guarda fa Ucciano allora noi abbiamo scoperto un il ricordio di un numero dieci di un calciatore il vescovo Domenico attenzione da dove viene il vescovo Domenico è stato vescovo di Rieti Rieti è la patria oggi in Italia lo è da tempo dell'atletica leggera il meeting di Rieti è il più importante tra tutti quelli che vengono disputati in Italia Furlani tenetelo in mente questo nome è un ragazzino straordinario saltatore in lungo viene da lì da lì viene How che forse avete dimenticato era un saltatore in lungo anche lui un grandissimo velocista pure comunque c'è questa patria questo legame con l'atletica leggera attenzione perché Monsignor Solmi sotto sotto lui non ha praticato calcio forse però ha praticato atletica leggera d'imboscata partecipa alle maratonine che ci sono nel parmese o nel parmigiano questo me l'ha raccontato questa talpa che è il direttore della gazzetta di Parma ogni tanto si imbosca e corre anche lui libero non so se sia ancora vero se lo faccio ancora io spero di sì devo dire che io ho giocato a calcio non con i piedi buoni ma io giocavo a metà campo sperando anzi richiedendo che ci fosse uno dietro che non sbagliava perché io sfarfallavo e andavo avanti mi piaceva fare gol però qualche d'uno mi passava insomma così a un certo momento diventato vescovo ecco ho avuto la io penso che sia stato uno dei pochi in Italia ad avere avuto il distacco di retina giocando a pallone perché giocando a pallone una pallonata dal basso verso l'alto mi ha spento la luce mi ha spento la luce nel senso letterale del termine dopo aver già avuto un'abrasione corneale quindi era la seconda volta che mio padre mi disse hai fatto l'asinata in effetti ma sono tornato mi hanno detto lei a calcio non giochi dopo un anno ho detto ma come faccio a non giocare allora mi è venuto in mente e lo faccio tuttora gioco con la maschera da portiere da hockey perché se prendo una pallonata nell'occhio mi ha detto la mia oculista signora molto distinta guardi danno dell'idiota a lei e anche a me allora dico signora per lei gioco con la maschera da hockey ma detto questo ho avuto un giorno la sprovedutoratezza con il direttore di incontrare una persona affetta di SLA che il direttore ed altri amici spingevano nelle maratone e ho avuto l'idea infelice di dire cosa posso fare per te e lui mi disse e mi disse spingimi vabbè ti spingo fino all'ascensore no no spingimi in una mezza maratona che avviene a Parma quindi ho dovuto correre diecimila cinquecento venticinque metri dieci chilometri e li ho fatti tutti di corsa con lui ed altri per me è stato il top tra l'altro il pomeriggio avevamo un incontro con il papa e io dovevo esserci dico se ci vado in carrozzina che figura faccio quindi allora mi sono volente o no appassionato all'atletica ma volevo farvi se mi date tre minuti un passaggio su un'altra pista io sono stato per otto anni cappellano del Modena Football Club non è una grande di bello è che ha gli stessi colori del Verona e anche del Parma e dalla C1 siamo andati in A e a un certo punto io ero con loro andavo quando giocavano in casa a celebrare andavo nei momenti belli come anche nei momenti brutti a un certo punto ve la faccio breve arriva la fine del campionato siamo rimasti in A ex voto andiamo tutti sul cimone 2.164 metri a ringraziare qualcuno che ci ha aiutato allora il giorno dopo rompete le righe i giocatori tornano a casa io ero in montagna da un'altra parte e mi telefonano faccio un nome di fantasia Francesco sta morendo Francesco era un ragazzino che veniva con me alla messa che io celebravo per il Modena ne prendevo sempre qualche uno con me chiedendo dicendo a loro non chiedete nulla non fate dei numeri strani venite Francesco un ragazzino di terza media problemi di anoressia a un certo momento quel ragazzo ha smesso di mangiare ha smesso di mangiare e non c'è è arrivato 25 chili ospedale o mangi o muori cosa fare io ero lontano non potevo fare nulla allora inizio telefono mi viene un'idea telefono allo stopper del Modena al centrale del Modena non vi dico chi per ragioni telefono gli dico senti questo ragazzino hai presente che è sì quel piccolino sta morendo tu cosa fai puoi fare qualcosa lui stava pitturando casa sua moglie gli aveva detto quando finisci tu pitturi casa e non esci finché non l'hai finita allora lascia lì telefona ad altri due giocatori del Modena uno da una parte e l'altro dalla regione si danno appuntamento con i ragazzi che venivano tutti si mettono la maglia del Modena e vanno in ospedale con due chili di gelato in mano vanno da Francesco e il quale gli dice io non mangio io non ne voglio sapere no no siamo qui come va molto contento di vedere un suo giocatore ma dice io non mangio mangiamo noi si mangia e a un certo momento aperto hanno iniziato a mangiare la miracola è stata che Francesco ha detto dammene un cucchiaio si è mangiato un chilo di gelato non è che si sia salvato per quello ma lì ha invertito la rotta e pian piano è ripreso a mangiare e adesso Francesco è uno stimatissimo medico che si è sposato da poco questa cosa io la racconto perché è lo spessore di cui si parlava precedentemente questi giocatori erano bravi serie B qualche duno è andato anche in serie A ma soprattutto erano uomini e papà e hanno interpretato il loro modo di essere in campo come un'espressione bella della loro vita il rischio contrario era che tu andavi ad incontrare questi giocatori e l'unica cosa che avevano davanti era il calcio poi qui Bonimba può dirci tante cose e il verbo che veniva usato è l'allenatore mi vede o non mi vede e quindi andare a vedere nelle pagine interne del giornale che voto avevi preso se c'era una riga su di te giustamente ma a quel punto salta fuori l'umanità che fa la differenza quella che anche dei tifosi quando vanno allo stadio io sono passato in mezzo ai tifosi che volevano menare tutta la squadra perché non avevano fatto determinate scelte e avevano fatto una partita diciamo sotto il livello e la domanda che io dicevo a questi agitati tu cosa hai nella vita hai la curva o hai qualcosa d'altro e devo dire che ho avuto veramente la testimonianza di tante persone e Bonimba è uno di questi al top che hanno certamente hanno giocato a livelli alti hanno spostato anche potevano spostare l'attenzione di tanti giovani su un qualcosa su un'altra cosa in base a quello che loro facevano o non facevano e sono rimasti veramente uomini e hanno dato una grande impronta è arrivato il signor sindaco e e so che è uno è veramente uno uno di quelli oltre ad essere capace posso dirlo di preparare quello che serve per la messa perché mi diceva il suo monsignore che era capace ma ha detto questo è uno di quelli chiedo scusa se l'ho tenuta lunga è arrivato il nostro sindaco Damiano Tommasi sappiamo tutto di lui come calciatore e stiamo imparando tante cose che lui sta portando avanti come sindaco ma un saluto da parte sua è doveroso poi prima di prima di interrogarlo anche chiaramente un saluto ciao a tutti e grazie dell'invito nonostante sia quello che abita più vicino sono arrivato ultimo ma eravamo impegnati poi avevo un altro impegno quindi mi scuso per il ritardo e devo dire la verità sono venuto ad ascoltare visto che sono appassionato di sport e soprattutto la figura di Gianni Brera che non ho potuto conoscere se non attraverso non so se su erede non so diciamo penso che ne abbiamo già parlato anche con alcuni dei ragazzi la figura di Gianni Mura la quale sono stato molto legato sia durante la carriera sia dopo la carriera calcistica e credo che sia una delle grandi voci assenti in questo momento nel nel panorama sportivo e nella discussione sportiva Max insomma penso che che possa condividere questo quindi sono ad ascoltare poi ci siamo incrociati anche più volte non sul campo perché abbiamo età diverse con Bonimba ed è sempre un piacere parlare di sport in un modo particolare soprattutto in un istituto sensibile ai messaggi dello sport e mi piacerebbe da assessore allo sport che diventasse anche una città sensibile ai messaggi dello sport perché credo che lo sport dia e possa dare ancora di più sostanza alle comunità se fatto in un certo modo altrimenti rischia di essere un boomerang che non fa bene neanche allo sport quindi mi fa molto piacere essere qua e complimenti anche per per il parterre torniamo per un attimo a Brera mi viene in mente guardando Roberto Boninsegna e c'è una frase di Brera che va commentata sapete perché? perché all'epoca sua Gianni Rivera veniva considerato l'emblema della classe perché aveva stile Brera quando di Roberto Boninsegna e di Riva dicevano semplicemente che erano dei muscolari cioè dei forzuti dei giocatori che facevano leva su una qualità fisica soprattutto Brera ha scritto questa cosa stile e classe sono due cose diverse non vanno confuse lo stile è il complesso dei movimenti che più si addicono alla particolarità psicofisica dell'atleta la classe è sapere esprimere la cosa giusta al momento giusto per ottenere il miglior risultato possibile quando veramente conta e credo che sia stata una frase che ha illuminato anche un modo di fare critica successivamente perché anche giocatori apparentemente votati al podismo avevano classe perché facevano le cose giuste al momento giusto allora c'è un detto latino nome nomen in cui ma non è vero sempre pensate che se Boninsegna Roberto Boninsegna non fosse un bastian contrario matricolato sapete l'anagramma del suo nome fatelo fatelo tranquillamente quando volete l'anagramma del suo nome dice questo Bobo non segnar reti e lui che è un bastian contrario ne ha segnate 277 in tutti i campionati ed è stato è stato capocannoniere persino nel campionato americano questo lo sanno in pochi è giocato il Cagliari si è trasformato in una squadra americana in un dopo in un post campionato hanno vinto il campionato e ha fatto una valanga di gol e se pensiamo a Damiano Tommasi l'origine del suo lo sanno pochi credo l'origine del suo cognome Tommasi Tommasi e Masiero lo sapete che sono lo stesso cognome Tommasi e Masiero perché Tommasi è Dom Masi Dominus Masi signori di un Maso Masiero è Maso Her Signore del Maso quindi siete fratelli a vostra insaputa ecco io non so se il vostro preside che è una persona straordinaria con un vice ormai sono una coppia inscindibile una coppia di fatto vorrei che intervenissero a non so non conosciamo i tempi però magari due parole vedere anche magari di fare intervenire i ragazzi se qualcuno vuole farlo non è ecco acceso beh intanto facciamo un applauso veramente perché è stato posso dirlo interpreto anche alcuni sono andati via ma semplicemente perché avevano il pullman non perché si sono stancati devo dire che sono stati momenti edificanti anche per le parole che ci avete detto e anche per lo slancio con cui guardare anche il futuro perché una cosa bella è che dietro ogni storia c'è un uomo io invito a leggere Avvenire anche io anche ieri c'era un'altra storia che avevo letto perché Massimiliano Castellani scrive delle bellissime storie adesso io non ho la gazzetta di Parma qua per cui non posso ma sicuramente ragazzi tutti noi abbiamo bisogno di modelli senza modelli non andiamo da nessuna parte allora dobbiamo sceglierci anche i modelli giusti ma per sceglierli dobbiamo andare a pescarli perché quelli che ci propongono sui social sono lì immediati però dobbiamo avere la pazienza anche di andare a scovarli qua abbiamo dei cacciatori di storie dei bracconieri come li chiama Adalberto Scemma però cercheremo di portarli anche in classe perché a raccontare storie ti viene voglia di costruire una vita anche migliore se la storia è bella per cui grazie di questo veramente di questo grande messaggio so che ci sono anche dei ragazzi che hanno forse qualche domanda dai ragazzi che ragazza ragazze venite venite qua venite qua perché il microfono così li tiriamo fuori un pochettino dai venite qua a far domande abbiamo ancora qualche minuto vi presentate questi buongiorno mi chiamo Sabau Giuseppe e avrei una domanda per il vescovo di Parma aspetta 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 ascoltiamoci come ha vissuto il fallimento del Parma da un punto di vista serenamente sportivo io ho una classifica molto precisa del mio tifo che è Inter Modena Parma quindi chiedo scusa Claudio devo dire che emotivamente ecco però detto questo che l'abbiamo vissuta in termini veramente dolorosi dolorosi perché purtroppo a Parma io non c'ero ma qualche altro fallimento l'abbiamo patito e perché ci è parso proprio da esterno io non ho avuto possibilità di interloquire con gente che erano dentro un tradimento dello sport perché lo sport e qui parliamo veramente di etica nel senso più stretto lo sport chiede una vita corretta sia dal punto di vista dello sportivo doping non doping ma anche del punto di vista della società e dell'approccio a tutti quei sistemi valoriali contrattuali e di onestà che debbono essere sempre tenuti presenti nel momento in cui e parlo anche di altre società si innesta qualcosa d'altro e c'è il profitto e c'è anche la possibilità nascosta di andare contro le regole tutto questo non è sport oltre che non essere onesto ecco devo dire che anche il Modem ha avuto momenti di questo genere però è anche bello vedere come la voglia di una città di avere una squadra e di impersonificarsi nei valori dello sport della propria squadra ha fatto sì che il Parma adesso stia tentando la Serie A e che il Modena vada bene perché il Modena stesso è andato in fallimento quindi è bello anche vedere questa ripresa grazie un'altra domanda ecco questa a proposito di chi sport fate lei è tuffatrice campionessa italiana stiamo scherfando si allena tutti i santi pomeriggi è molto brava tutti i sensi a te la domanda Cecilia io avevo una domanda per tutti i giornalisti e quanto può influire l'aspetto di Gianni Brera riguardo appunto il suo amore verso il vino all'interno del suo lavoro da giornalista e il suo amore verso il vino all'interno del suo lavoro da giornalista ha detto quanto è inciso il suo amore per il vino la sua passione per il vino beh insomma si circondava sempre di grandi bevitori poi era amico di Veronelli che è stato il primo che ha fatto una guida nel manacco dei vini italiani che è ancora in circolazione lo chiamava sua nasità perché se no metteva il naso dentro un vino lo riconosceva a chilometri ma io penso che secondo me parlo io ho conosciuto poi come Damiano il suo degno allievo anche da questo punto di vista la filosofia di Brera trasmessa a Gianni Mura era quella del mangiare e bere cioè mangiare prodotti buoni cibi buoni vini amava tantissimo sicuramente i vini delle zone vostre la Valpolicella e queste colline qui e sicuramente era una fonte di ispirazione e poi penso che io abito a Milano il nostro giornale è vicino a un ristorante che si chiama Arriccione dove lui lì tutti i giovedì aveva creato il club del giovedì invitava personaggi come Oreste Del Buono che è stato un grande scrittore editore invitava Missoni che prima che un grande stilista è stato un campione olimpico un atleta e quindi diciamo che il vino era un pretesto proprio per allargare il circolo dell'amicizia il dialogo e venivano fuori dei momenti di confronto bellissimi ma su questo adesso che ha capito la domanda secondo me Rinaldi può andare anche a fondo avevo effettivamente capito male credevo che disse quanto è inciso su di me il vino e non avevo capito bene per bere il vino era una cosa importante lui era cresciuto nella provincia e noica perché come sapete Pavia è famosa anche per l'Oltre Po ma aveva soprattutto i piemontesi anche i vostri però i suoi preferiti erano i piemontesi giovani quindi a qualche amico produttore di Barbaresco gli dava al Barbaresco prima che facessi tre anni di maturazione perché a lui piacevano giovani diceva non è vero che il vino invecchiando migliora questo lo dice la gente non capisce il vino questa almeno era la sua opinione e ha scritto delle pagine bellissime per un vino invece che viene prodotto in Oltre Po tuttora a Broni purtroppo è morto il suo papà che si chiamava Lino Maghe morto a 90 anni due anni fa e lui faceva il Barbacarlo che è un vino spumeggiante molto particolare perché è un vino fatto con le stesse uve della Bonarda ma anziché un anno due massimo tre dura 40 anni e Brera ha scritto nella Paciada che è un bellissimo libro che ha scritto a quattro mani con Luigi Veronelli che di vini io ne ho bevuto e continuo a berne anche migliori dappertutto ma non ho mai trovato nessun vino che mi soddisfi sempre in ugual misura come il Barbacarlo quindi per lui era una sorta di premio Nobel effettivamente il vino e il cibo e la convivialità che il vino e il cibo scaturivano erano per me molto importanti l'Arcimatto che è una rubrica storica che ha tenuto per anni sul guerri sportivo era di fatto spesso la cronaca di queste serate con gli amici al ristorante Riccione che Masca Stellani citava e che erano per lui rampe di lancio per i suoi racconti lui era naturalmente il protagonista guai a parlare di calcio perché il calcio gli usciva dalle orecchie quindi queste serate voleva parlare di tutt'altro di storia che era la sua materia preferita e di tutto ciò che ruotava intorno alla sua cultura che era vasta e spessa e l'Arcimatto era spesso il posto dove con questi articoli lunghissimi sui giornali oggi si farebbe fatica perché riempivano una pagina del guerri sportivo quando era un formato lenzuolo con un corpo 6 o 7 illegibile raccontava queste serate indimenticabili alle quali noi per motivi anagrafici non abbiamo partecipato ma chiunque abbia partecipato le ricorda come veramente indimenticabili un'altra domanda signor signor Bonin segna giocare a calcio l'ha per caso aiutato ad aiutare la sua famiglia un po' in generale vuoi stato aiutato con la famiglia sì esatto grazie diciamo che io nasco da una famiglia povera mio padre lavorava alle cartiere burgo e quando ho iniziato a giocare nella Sant'Egidio mai più pensavo di arrivare così in alto ecco però devo dire che non mi hanno mai ostacolato anche all'inizio quando ho dovuto andare a Milano provare per l'Inter star lontano da casa essendo figlio unico l'unica che creava dei problemi era mia madre perché essendo figlio unico non voleva che andassi a Milano oppure in giro per l'Italia ma poi a mia madre la convinci cioè io credevo in me stesso un giocatore di Serie B lo diventerò senz'altro poi le cose inizialmente ho fatto un po' fatica perché l'Inter non credeva in me allora mi ha mandato a potenza in prestito da un'altra parte insomma alla fine ce l'ho fatta ce l'ho fatta e ho aiutato la mia famiglia essendo mio padre un lavoratore del cartiere burgo mi ricordo che ogni tanto in casa sentivo che mia madre litigava perché non c'erano i soldi per vivere e queste cose sono state per me fondamentali che mi hanno aiutato a fare la carriera e ci sono riuscito nei miei 278 gol c'era sempre però un punto che andava al di là e dicevo il gol più bello sarà il prossimo che farò bello il giorno migliore sarà quello di domani ultima domanda sentiamo buongiorno volevo fare una domanda Gianni Brera so comunque che ha dato qualche soprannome a qualche giocatore se mi può dire qualche soprannome grazie mille allora far parte del gruppo di Gianni Brera credo che lo volessero fare e essere tutti perché voleva dire che eri già in un certo un certo giro di nomi e dei campioni allora Rivera era Labatino Mazzola il Barbisin Gigi Riva Rombo di Tuono io Bonimba poi ce n'erano altri ecco e quando e quando non ti menzionavano dicevano guardate che ci sono anch'io che fa parte del gruppo di Gianni Brera perciò si è inventato questi nominioli che però erano nominioli molto importanti ne aggiungo qualcuno io grazie un'altra domanda mentre arriva la domanda cito qualche altro qualche soprannome sì qualche altro venite stradi vialli stupendo perché abbinava la cremonosità e stradi varie a vialli deltaplano Zenga Schopenhauer Bagnoli uno degli allenatori Tricche Tracche Causio Simba Gullit quello secondo me più bello era riferito a Giampiero Marini non so se qualcuno di voi lo conosca perché era un giocatore che lui adorava perché era di Lodi quindi bassaiolo come lui ma non aveva due piedi particolarmente dotati però era Pinna d'Oro che è uno simoro meraviglioso perché le pinne non sono proprio un complimento per un calciatore ma d'oro perché vi voleva un gran bene grazie allora siccome io sono interista Alessandro volevo chiederti che emozioni hai provato quando hai segnato il primo gol con la maglia dell'Inter devo dire che sono nato interista anche io perché quando ero piccolo sui 10-12 anni mia mamma faceva la magliaia per Santa Lucia gli chiedevo sempre se mi faceva la maglia dell'Inter è che però per fare il primo in fretta faceva l'azzurro davanti e il nero dietro mi dicevo no mamma bisogna farlo a strisce ecco e da lì dicevi che far gol poi quando perché l'Inter mi ha fatto un po' arrabbiare ma all'inizio come ho già detto non credevi in me ma andato a fare la serie B a Prato un anno a Potenza un anno a Varese poi tre anni di Cagliari poi finalmente sono rientrato dalla porta principale e ho vinto tre classifiche cannonieri e facendo 24-22 24 gol ecco perciò le emozioni sono tante e ti devo anche dire che non è che me le ricordo tutti ma quasi grazie io invece da Juventino volevo farle sempre una domanda simile e Raffaele Raffaele sì volevo chiederle quali erano sempre le sensazioni di giocare nella Juve del Tempo e come si trovava rispetto anche all'Inter allora dunque ero al mare con mia moglie a forza di Marmi mi arriva la telefonata da Fraizzoli e mi dice vado al telefono buongiorno presidente come mai sono in vacanza Bobo la società ha deciso di darti la Juventus pausa io ho detto alla Juventus ci andrà lei io gli ho detto no perché mi sentivo interista e lui mi ha detto Bobo domani vieni a Milano perché la società ha deciso così vado a Milano non c'è stato niente da fare allora c'era il vincolo non c'erano procuratori decideva la società e a lungo andare però devo dire che è stata una decisione eccezionale andare alla Juventus per me perché ho vinto due scudetti in Europa League e nella Coppa Italia e l'Europa League è stata la prima coppa europea della Juventus non abbiamo fatto fatica a vincere perché c'era Zov Gentile Cabrini Siream Morini Furino Causio Tardelli Boninsegna Benetti e Bettega era una grande Juve ed è stata fatta da Giampiero Boniperti e voglio raccontare un particolare la Juventus che società era una domenica non gioco perché faccio una colica arenale lunedì mattina sono a letto squille il telefono alle sette gli dico mia moglie però andare a sentire chi è che rompe le scato alle sette mia moglie torna dietro di corsa fa c'è uno che dice di essere l'avvocato che ho restato alle sette ed era l'avvocato Agnelli vado al telefono e gli dico buongiorno avvocato e lui mi fa guardi come sta a proposito insomma ho fatto questa colica guardi Boninsegna io non voglio entrare nel particolare la Juventus ieri ha fatto 0-0 lei domenica deve essere in campo mi raccomando domenica sarò al comunale sperando che lei scenda in campo fatalità sono sceso in campo e ho fatto gol e questo era la Juventus dell'avvocato pensate noi interisti come siamo buoni con buoni insegni lo perdoniamo siamo attenzione un personaggio mitico del nostro sport Pietro Paolo Mennea ha detto una cosa che vi costringo a meditare ogni traguardo è un punto di partenza bene qui siamo alla fine della mattinata è un traguardo c'è un punto di partenza perché chi ha voglia di scrivere abbiamo parlato di Gianni Brera abbiamo qui due grandi giornalisti è uscita una rivista che si chiama la coda del drago è curata per i ragazzi di scienze motorie e per i ragazzi dei licei sportivi c'è una redazione che è formata da grandi firme qui ce ne sono Claudio Rinaldi ha debutato nel primo poi addirittura Gilberto Lonardi 87enne mito della letteratura italiana che ha scritto nel secondo numero le prime poesie dedicate all'atletica leggera attenzione in redazione ci sono i campioni del giornalismo e i ragazzi di scienze motorie dei licei sportivi io vi invito chi ha voglia a collaborare a vostra scelta mi contattate possiamo scegliere insieme l'argomento però è a disposizione la prima rivista italiana di letteratura sportiva è a disposizione per chi ha voglia di scrivere e ogni traguardo è un punto di partenza anche questo grazie a voi per l'attenzione grazie allora ringrazio a nome di tutti gli studenti di tutti i ragazzi qua delle seghette le ragazze per questo momento insieme è stato veramente edificante io voglio solo prendere una parola tra le tante belle che avete detto la prendo la rubo a Monsignor Solmi che ha detto che dietro ogni storia ragazzi dietro ogni storia c'è la differenza l'ha fatta l'umanità ecco io spero che oggi se andate a casa se andiamo a casa pensando al di là io vi auguro di diventare dei grandi campioni dello sport ma soprattutto diventare dei campioni della vita ma per diventare dei campioni della vita dobbiamo curare la nostra umanità per cui spero che coltiviate i vostri grandi valori che avete dentro oggi ne abbiamo avuto testimonianza anche da figure autorevoli dal giornalismo a vescovi a sportivi e spero ragazzi che possiamo andare a casa e coltivare in questo anno qua un cammino insieme per diventare uomini e donne veramente belli e forti come siete voi e lo so che lo siete grazie a voi di essere stati qua con noi oggi perché è un evento nell'evento se ci concedete una fotografia e con questi ringraziamenti andiamo a chiudere questa mattinata insieme all'insegna di Gianni Brera all'Arcimatto all'insegna davvero dei grandi e alti valori dello sport all'insegna della gioventù dei ragazzi che di questa scuola e di tutte le scuole che fanno dello sport qualcosa di più grande del solo sport del solo movimento ma anche di uno stile di vita davvero importante buon proseguimento con i programmi di Radio Pace e di Tele Pace e a presto arrivederci a presto